La cucina del ristorante Apicciridda propone le specialità tipiche della regione Sicilia. Il ristorante Pizzeria Pasticceria Apicciridda non è solo un ristorante, ma anche pizzeria dove viene servita la tipica pizza napoletana, cotta a legna, e pasticceria, ricca di prodotti tipici siciliani di dolce carollo. Ideale per cena con gli amici, pranzi di Natale ed eventi speciali, il ristorante Pizzeria Pasticceria Apicciridda è aperto tutti i giorni. Vi aspettiamo numerosi! È a Torino, in piazzale della Repubblica 1B. Per info e prenotazioni, telefono 011 43 67 460.